Buonasera e ben ritrovati in nuova puntata di Angoli e io come d'abitudine vi ricordo subito l'indirizzo mail per comunicare con la redazione del programma angolichiocciolaespansionetv.it mi raccomando scriveteci in questa prima parte di puntata siamo in compagnia di Cristina Rota psicologa e formatrice e di Daniela Marinaro autrice di fiabe insegnante e counselor buonasera buonasera allora siete una coppia in realtà di autrici di un libro lo presentiamo questa sera le fiabe per costruire relazioni infelici eccolo qua e quindi immagino che sia un libro rivolto proprio ai genitori no più che ai bambini rivolto ai genitori che in questo modo riescono magari a individuare i punti fermi attraverso cui educare i propri bambini a una sana vita sociale effettivamente si tratta di un libro che è rivolto ai genitori a tutti gli educatori a tutte le persone che hanno a che fare con i ragazzi e con i bambini e che attraverso le fiabe trovano degli spunti di riflessione degli aiuti molto concreti e molto pratici per gestire le relazioni che ruotano attorno ai ragazzi per l'appunto com'è che è nata l'idea di questo libro Daniela allora è l'idea di questo libro nasce da innanzitutto la mia passione del dello scrivere fiabe proprio su misura e ho unito questa questa mia competenza alla competenza appunto di psicologa di Cristina per creare questo progetto editoriale insieme quindi abbiamo unito due competenze apparentemente molto diverse ma che abbiamo creduto fin da subito potessero viaggiare bene insieme peraltro il libro gioca un po su due piani appunto il primo è quello della fiaba e poi si abbina la visione di un film magari un film di animazione conosciuto anche dai più piccoli proprio per entrare ancora una volta nello specifico di quelli che devono essere i punti fermi di queste relazioni si la scelta è ricaduta su dei film di animazione per ogni capitolo per ogni tema affrontato viene scelto un cartone animato un film di animazione da guardare con tutta la famiglia e che vada approfondire ulteriormente gli argomenti affrontati nel capitolo quindi per esempio nella fiaba sui fratelli e nel tema che tratta le relazioni tra fratelli la scelta ricaduta su frozen proprio perché parla di una relazione tra due sorelle una relazione sicuramente interessante da leggere e da guardare da un punto di vista anche diverso da quello della del divertimento e del piacere in senso stretto certo ogni paragrafo poi affronta nel dettaglio appunto le dinamiche della relazione a seconda del tipo quindi famiglia fratelli lo abbiamo detto poi anche la dinamica di coppia che inevitabilmente la relazione tra mamma e papà si come dire si riversa poi anche sugli stato di animo dei più piccoli quindi partiamo appunto da questo ambito che quello sicuramente ti ringrazio di questa così di questa osservazione di questa domanda perché ci tengo a sottolineare questo che ogni fiaba come dici tu indaga un argomento specifico ma è frutto di ricerca sul campo nel senso che sono state coinvolte tantissime persone che ho intervistato che ho osservato e per cui tante famiglie anche tante mamme tante coppie che hanno contribuito davvero alla costruzione di questo libro e per cui ogni ogni fiaba comunque comporta davvero un come dicevo uno studio sul campo che poi si è stato trasformato attraverso la fantasia e creatività in una fiaba a tema andando avanti poi si entra anche nell'ambito delle relazioni invece più esclusive del bambino come ad esempio la relazione con i compagni di classe a scuola elementari e poi anche fino arrivare all'adolescenza e alle attività extrascolastiche in particolar modo lo sport certo anche qui mi ripeto ogni ogni fiaba così come hai citato per quanto riguarda le fiabe diciamo nell'ambito scolastico hanno previsto proprio la mia presenza accanto ai bambini accanto agli insegnanti accanto ai genitori una presenza che appunto ha significato questo un raccogliere i pensieri le emozioni quindi quello che a me è arrivato appunto osservando e raccogliendo il più possibile informazioni da parte delle persone che hanno vissuto poi letteralmente l'argomento di cui si parla partiamo per esempio dal capitolo dedicato alle relazioni che si instaurano nella scuola elementare o scuola primaria le parole chiave che identificano no questo momento questa fase della crescita del bambino sono apprendimento stima di sé fatica tempo libero ascolto di le parole chiave aiutano a indirizzare un po gli argomenti che verranno poi esplosi ed affrontati nei commenti e che la fiaba contribuisce a far a far emergere fra tutti la parola che mi fa più sorridere quella della fatica perché il percorso scolastico tutti i percorsi scolastici sono proprio faticosi sono spesso faticosi e questa fatica spesso dall'adulto viene sottovalutata quindi c'è una grande attenzione questo nei commenti nelle riflessioni fatte nel riconoscere la fatica dei bambini e dei ragazzi e nel dare un po il tempo al tempo quindi permettere ai ragazzi di avere un ritmo che a volte bisogna dirselo è veramente intenso e un po troppo vorticoso un po troppo il ritmo dell'adulto quindi viene data un po questa indicazione mentre invece le relazioni tra fratelli immagino che insomma poi crescendo si riesca a legare molto di più ma da bambini è ovvio che anche la componente di tra virgolette gelosia competitività tra tra fratellino anche per accattivarsi l'affetto dei genitori si ha un po da saper indirizzare no come fare è un elemento è un argomento davvero molto intenso e confesso che è uno degli argomenti che a me in particolare ha coinvolto e colpito colpito di più mentre scrivevi commenti io stessa ripensavo a me io ho una sorella quindi a tutto il mondo che ci circonda riuscire a creare armonia fra i fratelli non c'è la bacchetta magica nel libro viene anche detto nella prefazione la bacchetta magica non esiste quanto più i genitori educatori riescono a riconoscere le diversità dei figli quanto più loro riusciranno a crescere essendo diversi e rispettando le reciproche diversità è questo che permette ai fratelli ma anche alle altre relazioni che possono ruotare intorno alla famiglia e ad altri contesti di crescere nel modo più uso il termine sano piacevole bello non fare forzature un po senso di questo e daniele abbiamo sentito che il film associato a questo paragrafo è frozen mentre per quel che riguarda invece la fiaba come si struttura infatti pensando a quello che diceva poco fa cristina anch'io mi sono molto confrontata con la mia realtà quotidiana io ho tre bambini e che sono diventati nella fiaba possiamo dirlo dei dei panda rossi e c'è un'immagine che della fiaba che poi è stata tradotta in bellissime immagini voglio ricordare appunto la nostra illustratrice laria sgarzi che ha illustrato ogni fiaba proprio un'immagine che lei stessa ha poi disegnato nel libro dove si vede proprio un cucciolo che si specchia in un fiume e il messaggio che viene che abbiamo voluto dare fortemente è questo che proprio per rispettare la diversità bisogna partire dalla propria unicità e quindi fin da bambina è importante riconoscere la propria immagine guardandosi allo specchio e accettarsi per come si è quindi unici e attraverso questa unicità imparare a volersi bene ok allora ecco qua il libro le fiabe per costruire relazioni felici e io approfitto anche per ricordare i vostri siti internet siamo favole punto it e cristinarota punto com dove potete trovare anche altre informazioni vi ringrazio moltissimo per essere state con noi stasera grazie a voi per l'opportunità grazie qualche istante di pubblicità ma torniamo tra pochissimo con la seconda parte di angoli quindi restate con noi grazie a voi grazie a voi grazie a voi